Il nostro lavoro è molto difficile, 4 attori da danciare... Quante ore di prove facciamo al giorno? Quante ore di prove facciamo al giorno? E il 6 ore? 6 ore, sì. Perché 4 attori è molto difficile. La versione che abbiamo fatto è molto difficile. E' molto difficile. Ma lo amavamo. La prima volta in Romania? Sì. Ma non la prima volta. Non la prima volta. Siamo molto felici e ringraziamo gli organizzatori. Isabella, il sindaco che ha fatto tutto questo. Il sindaco di Costanza. Qual è il tuo cibo preferito che ti piace? Qual è il tuo cibo preferito che ti piace? I dolci. Quali dolci? Tiramisu. Quali dolci? Quali napoletane? Sì. Il tiramisù. E tu? Pizzas. E tu? Pizzas. Ma come? Ma come? 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 Ma come una volta a week. Una volta a week? E tu? Pizzas? Si. Una volta a week? E tu? Pizzas? E tu? No. Perché lavoriamo molto bene. Ho visto. E' molto energia. Sì. Un messaggio per il pubblico? Un messaggio per il pubblico. Spero che ti piace lo spettacolo perché i ragazzi sono molto bravi e hanno lavorato con grandi insegnanti, hanno messo su dei balletti molto difficili di repertorio e quindi noi siamo felici di farne parte di questo spettacolo e spero che ti piaccia. E' il pubblico, è il pubblico. E' il pubblico? E' il pubblico? E' il pubblico? E' il pubblico? Bagliamo solitamente nel teatro, però abbiamo fatto anche spettacoli all'aperto. Ma a fost mai avuto la pubblico o ci vuoi essere più in pubblico? Non, è più confortabile da' il pubblico, ma in pubblico. La pubblico è un po' difficile. Cosa fa' il pubblico più difficile da' il pubblico? In pubblico. Perché non abbiamo punti di riferimento. Ma a fost detto madame Carola Arbobarine, solo a opera di Paris, non hai punti di riferimento. Non hai da' il pubblico di riferimento, non hai da' il pubblico di riferimento. E' molto greu. Perché i riferimento di riferimento, non si puoi riferimento di riferimento. E' il pubblico che non si può essere qui e non si può stare a fare tiruetà. Il teatro è come un tiracoi. Bene, ci sono un covoro. Ci sono un covoro. Ma in ogni modo non puoi fare, non è il stesso modo. Non puoi fare un covoro. Non puoi fare un covoro. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.